Non voglio mai più mettere piede in quella palestra Stavo sul tapis e a un certo punto ho cominciato a sentire caldo Sotto avevo un completino Quindi mi sono tolta la t-shirt Ho continuato a correre A un certo punto mi sono accorta che c'era un gruppo di ragazzi di fronte a me Mi guardavano, parlavano fra di loro e ridevano Sono scura che guardavano me perché a parte che non c'era tanta gente Confiavano le guagge, facevano... Mi hanno detto tutta la vita, ma in palestra Che c'era poi ci vado ed è questo quello che succede Mi fate veramente schifo Non mi sono neanche lavata, ho preso tutte le cose e me le sono andate a casa Perché non ci volevo più stare là Cercherò un altro posto, sto a Napoli e mi serve una palestra che sia vicino alla metro 1 Perché non guido Però io adesso ho paura che succeda di nuovo Ma è possibile che non ci sia un posto in cui posso stare tranquilla Che succede ovunque, al suo mercato, all'università, qua sui social, nei commenti Io vorrei stare solo due secondi a vivere la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro Cerco di essere forte, cerco di dare l'esempio Ma non ce la faccio a molti È troppo Non ce la faccio più Non ce la faccio più